Ben tornati in 2015, siamo la stella H del OneTouch, quello che facciamo davanti è l'OXX, un tablet 17.4, come vedete è molto Android, possiamo anche vedere che molto Android in versione 5.1 ha qualche problema, questo è un prototipo, vedete non è proprio fluidissimo in interfaccia, piuttosto curioso perché se proviamo a lanciare un gioco, un gioco che non è particolarmente complesso, però vedete che giocando è abbastanza tranquillo, quindi evidentemente dovete mettere qualche questione a legge all'utilizzazione della piattaforma, come prodotti che sono intera, magari non sono perfettamente ottimizzati. In questo caso monta un processore Octa-Core 64-bit da 1.5 GHz, 2 GB di RAM, 32 GB di storia, c'è anche una penna, quindi può essere utilizzato anche tramite il filo e si può fare la penna venire qui calamitata sulla parte del mio penno, abbiamo mostrato anche il posteriore, perfetto, c'è una base regolabile, questo piede può essere regolato, quindi può essere utilizzato in diverse modalità, in questo caso la classica modalità per il piede davanti, come se fosse magari un filtro televisore, che si rende volto, come se fosse un HLU, per tutte le tecniche che sono interessanti, come capisce la protocamera anteriore, al resto da capire se questo problema, quindi l'interfaccia, verrà risolto. E' un'idea con le gambe di grande dimensione che va imponendo, si pare che anche Apple stia lavorando a qualcosa di simile, si può condividere insieme il lavoro, oppure si può lavorare, si può giocare insieme, si possono guardare contenuti molto similiari, in più persone contemporaneamente, sono anche gli speaker abbastanza potenti, vedremo quando arriverà sul mercato quale sarà il prezzo di vendita. Nel momento di tutto ci rivediamo sui punti numero 3.